Buona domenica alla redazione di Firenze Smart, Cesare Martignoni in vostra compagnia. Coda in A12 a Rosignano Barriera in direzione sud per traffico intenso. In A1 ci sono coda tratti tra Firenze Scandici e il BV1 variante di Valico in direzione Bologna. Traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud in entrambe le direzioni. Coda tratti per traffico intenso in A15 tra Massa e l'Allaccio Santo Stefano di Magra la Spezia in direzione Genova. Traffico rallentato in Fipilì tra Lavoria e Ponte della Ovest in direzione Firenze per traffico intenso. In Fipilì per un mese e mezzo dal 15 luglio il tratto tra Empoli Centro e Empoli Est verso Firenze sarà a una sola corsia. Fino al 7 settembre per Lavoria la linea ferroviaria, Raul e Lunigiana e Castelnuovo Garfagnana. Cancellazione di treni e corse con bus per le corse regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!